Un saluto dal Tg della mobilità. Emergenza, coronavirus e trasporto pubblico svolgono regolarmente il proprio servizio. Le linee bus ora esercite con Pullman Gran Turismo come disposto dal Campidoglio per supportare il trasporto pubblico alla luce del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha abbassato dall'80 al 50% il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici. Le linee ora gestite con Pullman Gran Turismo dalla società Roma TPL sono 8. La 0,70, 118, 246, 246 prolungata, 515, 709, 731 e 795. Altre 14 linee di bus gestite invece dall'Atac sono state potenziate soprattutto negli orari di punta.